Grazie a un confinanziamento tra Comune e ASD Terranova Traiana di circa 9.760 euro sono stati installati nuovi spogliatoi in prefabbricato che danno una risposta ai tanti atleti che tutti i giorni utilizzano il nuovo campo in sintetico inaugurato nel 2021. Gli atleti sono aumentati esponenzialmente nel corso degli anni perché con la nuova struttura in sintetico c'è più possibilità di far utilizzare il campo a più atleti contemporaneamente, però mancavano gli spogliatoi. In questo modo siamo riusciti con l'amministrazione insieme alla società Terranova Traiana a dare una risposta e quindi un intervento sul campo proprio ai tanti ragazzi e atleti che ad oggi sono circa 350 che nell'arco della settimana utilizzano la struttura e anche il campo di calcio al 5 e il campo da tennis.